Un evento davvero terribile sconvolge la vita di Salvo Veneziano, conosciuto dal grande pubblico per essere stato nel 2001 dei concorrenti più amati della prima, storica, edizione del Grande Fratello su Canale 5. Via Instagram, l'imprenditore siciliano ha raccontato quello che gli è accaduto poche ore fa pubblicando sul social un paio di foto piuttosto sconvolgenti. Un terribile incendio ha infatti colpito la sua storica pizzeria di Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza. La storia della pizzeria di Cesano Maderno risale a ben 15 anni fa, quando Salvo Veneziano riuscì a fondare uno dei suoi primissimi punti vendita proprio con i soldi, parecchi, guadagnati non solo grazie al Grande Fratello ma anche alle innumerevoli ospitate di cui si era reso protagonista ai tempi. Com'è normale che sia, Veneziano era molto legato alla pizzeria, alla quale però da questo momento in poi dovrà dire, forse per sempre, addio. Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere. Per il momento, per un incendio che ha totalmente distrutto l'attività, ha scritto Veneziano, che ha tenuto a sottolineare un punto in particolare. Non si è infatti trattato di un rogo appiccato apposta per recare danno all'imprenditore. Veneziano ha in effetti aggiunto. Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso. A poche ore dalla pubblicazione del post sono iniziati ad emergere su alcuni quotidiani locali i dettagli sull'incidente. Come riportato dal cittadino di Monza e Brianza, le fiamme avrebbero iniziato a propagarsi nella notte fra domenica 11 e lunedì 12 settembre. L'incendio, avvenuto alla sua officina della pizza di Via Molino Arese in Frazione Molinella, avrebbe costretto gli occupanti dei quattro appartamenti al di sopra della struttura a evacuare le loro case. Non si registrano per fortuna vittime nell'incendio, che però non è stato privo di conseguenze. Al di là della distruzione della pizzeria, si registra un'anziana donna 85enne intossicata dal fumo proveniente dal locale in fiamme e trasportata per ulteriori controlli all'ospedale di Desio. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco. ha corsi rapidamente per spegnere le fiamme. Il locale di Salvo Veneziano, al momento dell'intervento, era chiuso e non c'erano clienti all'interno. Per il momento è mistero sulle cause che hanno scatenato l'incendio. Le indagini sono tuttora in corso. Salvo Veneziano, in ogni caso, non ha perso tutto. L'ex GFino è infatti il proprietario anche di un altro locale, aperto a Milano nel 2005.